Marco chiede, si può fare una meditazione con mantra usando qualsiasi parola? Ha lo stesso effetto? Ovvero, quando un mantra è sbagliato? Allora, c'è una parte della meditazione di quando noi usiamo un mantra, diciamo la parte tecnica che è uguale a se stessa, quindi prima ti focalizzi un po' sul respiro, poi introduci il mantra e qualsiasi mantra, tra virgolette, tu scegli, poi adesso andiamo nel dettaglio del mantra, vediamo un attimo la tecnica, la cornice, questo mantra ha un effetto calmante, perché? Perché in qualche modo noi radichiamo la nostra attenzione nel qui e ora, grazie al mantra. Quindi la tecnica usata nel mantra ha un suo effetto calmante, e questo è un minimo comune denominatore un po' per tutti i mantra. In questo senso, relativamente all'ancoraggio all'adesso, l'ancoraggio al mantra, qualsiasi mantra, tra virgolette, produce questo effetto, questo effetto di calma, di tranquillità, di quiete. Tuttavia c'è mantra in mantra, non tutte le parole hanno lo stesso effetto, assolutamente no. Ci sono parole che hanno una vibrazione più elevata e parole che hanno una vibrazione più bassa. Molto interessante è quello che ha fatto quel giapponese che si chiama... Si chiama? Emoto? Adesso non mi sovviene bene il nome, è corretto. Lui prendeva acqua dalla stessa fonte, lo metteva in due recipienti diversi, per esempio in uno diceva belle parole, nell'altro parolacce, e quindi la stessa acqua però in due contenitori diversi, una veniva riempita di belle parole, di benedizioni, eccetera, eccetera, e l'altra invece di parolacce, le congelava, le congelava e poi analizzava al microscopio i cristalli di ghiaccio che ne derivavano. Quelle con le belle parole erano bellissimi da vedere, armoniosi, fantastici, belli proprio, e quegli altri invece erano proprio bruttini. E così, ora ho fatto loro, e così con musica rock, con musica tranquilla, con Mozart, insomma, l'acqua reagiva in modo completamente diverso usando una parola piuttosto che usando un'altra parola. Noi siamo fatti al 70-80% di acqua, e quindi le parole hanno un peso diverso. Quindi se io uso un mantra che ha un significato, che apre il cuore, è un conto. Se io come mantra uso una qualsiasi parola, nello specifico una parola neutra, ecco, tecnicamente mi distraggo di meno e quindi in parte funziona, ma non c'è l'apertura del cuore. E se uso invece addirittura delle parole che hanno una bassissima vibrazione, ecco che creo dei danni, posso creare dei danni. Io preferisco che uno conosca gli effetti, il motivo, l'intenzione per cui uno fa un mantra. Se non c'è un significato chiaro nel mantra, c'è comunque un'utilità che quel mantra evoca. Quindi io tendo a suggerire di conoscerlo. Quindi quando è che un mantra è sbagliato? È sbagliato se io come mantra uso una parolaccia, uso delle maledizioni. La magia nera, dire parolacce. Chi è che... Mandare una maledizione? Mandare una maledizione. Chi è il primo, il primo su cui ha effetto quella maledizione? Quella maledizione? Io stesso, io mando una maledizione a una terza persona e io vibro, vibro di una vibrazione bassa. Il primo a sentire una sofferenza, la sofferenza di quell'odio che sto trasmettendo, di quel male che sto trasmettendo, il primo sono io. Non è assolutamente detto che il ricevente lo riceva, perché se è nella presenza mentale, nell'apertura del cuore, non attecchisce, non c'è spazio per attecchire. E quindi ritorna a me, rimbalza lui e viene a me. E quindi, di nuovo, mi sono fatto del male. Di contro, augurare del bene, è la pratica di benevolenza, è questo. Augurare del bene a qualcuno, il primo a vibrare di quella vibrazione sono io. E poi, e poi alimento. Se qualcuno è in pace, sentirà ancora di più questa pace. E' più facile accoglierla, perché è in sintonia con quella. Se uno sta nel male, in qualche modo, gli posso dare come auspicio una maggior leggerezza vibratoria. Perché no? E quindi anche in questo senso, torniamo anche qui un po' a quello che dicevo prima, nel come militare coaching a Marcello, rispetto a come uscire dagli aspetti negativi, no? Dalla negatività. Aprendo il cuore, favorendo un clima di benevolenza. Questo è sicuramente una chiave. E quindi vale anche per il mantra. Perché usare una parola qualsiasi, quando ci sono delle parole che hanno un peso particolare. Il mantra è come una chiave, una chiave che apre delle porte. Allora, sì, c'è una tecnica base che è sempre uguale a se stessa, ma poi ciascun mantra apre alcune porte. In modo originale, tutto suo. È come un mantra è magia. Non credo che sia magia, non credo. Per alcuni è magia. Ma in fondo anche se pensiamo ai maghi, come si chiamano? I maghi di una volta, che usano le parole magiche. Oppure, penso a quelli col pentolone, che dicono, metto, evocano l'energia di quell'erba speciale che mettono dentro, l'intruglio. Evocano una vibrazione. La vibrazione, da un punto di vista scientifico, della materia, scienza della materia, la fisica quantistica, la vibrazione è alla base della materia. Non c'è solidità. La solidità è una minissima parte, è una quantità irrilevante della materia. La materia solida, quella che percepiamo come solida, è molto più simile a una vibrazione. Si comporta come vibrazione. Sono stati fatti proprio degli esperimenti per cui sono stati sparati delle piccole particelle di materia e si è visto che si comportavano come delle onde. Non si comportavano come delle particelle di materia, ma si comportavano come delle onde. Molto la materia, quando vai a scavare, negli aspetti più piccoli della materia, hanno più a che fare con delle onde. come le onde sonore. È molto più a che fare con il suono. Non a caso, tra l'altro, la genesi comincia con il principio era il verbo. Per il principio c'era il suono. Non a caso si parla anche di nei mantra, c'è per esempio questa parola OM OM AUM sarebbe AUM che è il mantra per eccellenza. È l'aspetto divino che è in ciascuno di noi, a cui ambire. È una vibrazione molto alta. Ecco, quindi perché perché non invece di una parolaccia non usare che ne so, O PONO PONO che è bellissimo, oppure usare OM 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 Il suono che esce fuori da OM è più un AUM AUM Questa è una vibrazione elevatissima. Allora, no, non tutte, sotto, da un punto di vista prettamente tecnico, tutte le parole mi ancorano all'adesso e mi aiutano a favorire un clima di pace interiore, ma non tutte le parole sono uguali. Quindi se tecnicamente si assomiglia, poi da un punto di vista prettamente vibrazionale, ogni vibrazione è completamente diversa. Quindi, attenzione a non usare parolacce. Ma questo vale anche in generale. Io sconsiglio, ogni tanto mi scappa qualche parolaccia, ma le uso più per gioco che per altro. Ma tendenzialmente sono molto attento all'uso delle parolacce. Assolutamente. reputo che non sia utile e sia dannoso quantomeno l'uso improprio delle parole. bene. Se ti è piaciuto il video lascia un bel like, scrivi anche un tuo commento perché è utile sentire la tua e arricchente per me e per gli altri, iscriviti al canale se non l'hai già fatto e se non hai ancora scaricato la meditazione gratuita la trovi qua. Che tu sia felice e che tutti gli esseri siano felici.